...e 33 secondi, è una composizione diciamo anche scritta negli anni 50-60, quindi se vogliamo un'arte concettuale, dietro c'è un concetto filosofico molto importante. Io lo spiegherei dopo l'ascolto, pregherei allora il direttore che mi sostituisce in questa eseruzione di venire avanti, buon ascolto. Prego anche di esplodere il microfono durante l'esecuzione, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.